bentornati all'intervista delle fritt oggi siamo in compagnia di raffaele grande da cardiff e parleremo di brexit vi avevamo annunciato in diversi video che volevamo quindi fare un piccolo focus su questa questione e di prima mano con qualcuno che abita in uk e quindi insomma raffaele intanto grazie per la tua disponibilità raccontaci chi sei prima di entrare nel dettaglio delle domande sono uno studente di dottorato in matematica sono italiano vengo da da lecce sono di lecce salentino e mi sono trasferito qua essenzialmente per per fare questo dottorato quindi di conseguenza sia fare ricerca che studiare che che insegnare i tutorial le varie esercitazioni perfetto raffaele allora cominciamo subito col chiederti una cosa che sembra un po di base ma secondo me aiuta molto chi chi ci ascolta allora dacci come dire delle coordinate su come siamo arrivati alla brexit insomma quali sono state le le tappe principali le due tre tappe principali che hanno portato poi a questa a questa data prossima di fine marzo dove sembra che tutto tutto potrà controllare sia molto aleatorio purtroppo è ancora abbastanza aleatoria la la situazione ci sono nuove news ogni ogni giorno e ci sono e aggiornamenti perché comunque la situazione tuttora non è non è chiara allora partiamo dall'inizio e c'è partiamo dal referendum il 23 di giugno del 2016 c'è stato questo referendum tra rimanere in un'unione europea e uscirne dall'unione europea essenzialmente il lo schieramento dei partiti erano più o meno così essenzialmente c'era il partito conservatore e il partito laburista che all'interno avevano delle correnti sia euroscettiche che europeiste specialmente il partito conservatore mentre altri partiti tipo ad esempio il partito nazionale scozzese il pla di cambrie che sarebbe il partito indipendentista gallese i liberal democratici e il sinfein che afferisce alla sinistra europea erano a favore essenzialmente del remain con delle ragioni diverse e c'è stato anche il forte e la forte influenza di niger farage e dell'ukp cioè del partito dell'indipendenza partito dell'indipendenza e ha vinto il leave 52 a 48 in particolare in galles ha vinto il leave in inghilterra vinto il leave in particolare nelle zone rurale sulla di campagna mentre nel a londra ha vinto essenzialmente remain mentre in scozia e in irlanda ha vinto nel nord irlanda ha vinto il remain il remain in irlanda ha vinto anche per un altro motivo perché comunque bene o male l'irlanda è divisa l'europa unita comunque garanzia entro un certo limite di per tenere relativamente unita l'irlanda almeno per il senza poi considerare tutti i vari accordi che ci stanno tipo quello di venerdì santo per comunque mettere in comunicazione in maniera agevole sia l'irlanda del nord che la repubblica di irlanda quindi questa è la situazione poi e c'è stato anche un teresa meia ha provato a ottenere la maggioranza assoluta in in parlamento non riuscendoci con le elezioni di o dell'8 giugno del 2010 2017 elezioni che hanno portato a quello che in gergo si chiama anche parlament anche parlament significa essenzialmente che questo parlamento c'è una maggioranza ma non è assoluta infatti teresa meia ha dovuto appoggiarsi a un partito il dup e che sarebbero gli unionisti irlandesi è un partito di estrema destra e anche xenofobo e quindi da questo momento è stato un c'è stata essenzialmente una profonda situazione cioè c'è stata una situazione di relativa instabilità con ad esempio le varie proposte di accordo che venivano bocciate c'è stato anche un voto di confidenza che comunque la meia ha passato e poi essenzialmente arriviamo ai giorni nostri dove c'è anche ci sono anche varie indiscrezioni per quanto riguarda un secondo referendum e notizia di oggi probabilmente il partito laborista appoggerà un emendamento per rifare un secondo referendum indiscrezione del guardian al momento e quindi questa è la situazione poi ci sono tutta una serie di pressure group in riferimento ad esempio al secondo referendum come people's vote oppure dei think tank come another europe is possible oppure ci stanno delle petizioni tipo ad esempio take a break from brexit che propongono di posporre l'applicazione dell'articolo 50 quello che dovrebbe portare all'uscita dall'unione europea del regno unito questa è essenzialmente la situazione ma raffaele su quest'ultimo punto la richiesta di posporre l'entrata inefficacia dell'articolo 50 è per prendere meglio le misure in generale qual è il motivo per cui si chiede di posporre questa questa data essenzialmente ci sono due punti però il principale è questo evitare uno scenario di no deal lo scenario di no deal sarebbe il peggior scenario che che possa capitare al momento per tutta una serie di motivi anzitutto perché se vi fosse un no deal la situazione sarebbe anche abbastanza drammatica perché perché comunque è come se il regno unito uscisse immediatamente dall'unione europea quindi di conseguenza non ci sarebbe il periodo di transizione e poi anche da un punto di vista economico perché già la sterlina ha iniziato a perdere ad esempio sull'euro con uno scenario di no deal è molto probabile che la sterlina perda ancora di valore senza poi considerare che senza deal fondamentalmente i cittadini europei in particolare quelli italiani non potranno votare per le elezioni europee ok chiarissimo andiamo a quali possono essere le conseguenze diciamo di un'uscita non morbida diciamo del 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 UK dall'unione europea soprattutto per i nostri per i nostri emigrati ricordiamo brevemente che la Gran Bretagna è uno delle mete principali della nuova migrazione italiana appena dopo la Germania negli ultimi anni quindi ci sono numerosissimi emigrati più o meno registrati all'aereo in UK quali sono secondo te da quello che poi si capisce rispetto come dicevi all'enorme mole di cambiamenti di informazioni che ci sono quali possono essere gli effetti per chi è arrivato da poco o per chi si è stabilito UK già da qualche anno? Allora per quanto riguarda le persone che si sono stabilite già da qualche anno dipende perché se si vive nel Regno Unito da più di 5 anni si può fare richiesta di satellite status mentre chi vive da meno di 5 anni può fare richiesta di pre-setment status la richiesta può essere tranquillamente fatta tramite un cellulare android al momento è in fase di sperimentazione e tramite un un cellulare android c'è un'app che permette la la registrazione e permette di fare questa domanda sia di settlement status che di pre-setment status e non devono fare la domanda essenzialmente soltanto i cittadini britannici chi vuole rimanere per tempo per un tempo indefinito nel Regno Unito e chi se ne vuole andare essenzialmente nel Regno Unito tutti gli altri devono farla di fatto quindi questo è quello che è quello che succederà per rimanere nel Regno Unito. Ok ma l'ultima domanda tu che ci insomma ci vivi in UK e insomma ti sposti parli con le persone eccetera qual è l'aria che si respira cioè effettivamente si percepisce quella diciamo quel risultato del referendum dove Londra le grandi città erano per il Remain mentre le aree rurali erano un po' per il Leave insomma qual è l'aria che si respira facci insomma dacci un po' la tua impressione su questa situazione. L'aria che si respira essenzialmente di fatto è essenzialmente che la situazione è un po' si sente che la situazione è complessa c'è incertezza per certi aspetti specialmente nell'ambito accademico perché bene o male lavorando nell'Accademia comunque c'è un po' di incertezza per quanto riguarda determinati progetti europei e c'è anche una certa preoccupazione per quanto riguarda ad esempio per fare un esempio davvero banale i prodotti alimentari tanto che ad esempio c'è una catena di pub il Wetherspoon il cui leader è stato un forte promotore della Brexit che probabilmente da dopo la Brexit venderà soltanto prodotti britannici quindi non si potrà trovare ad esempio la Peroni non si potrà trovare la Heineken non si possono trovare tutta una serie di birre che non vengono dal Regno Unito quindi magari si potrà trovare ancora la Carling ma non altre quindi diciamo che anche nell'ambito universitario dove magari conosci più la situazione c'è un'ansia tra i tuoi colleghi insomma tu personalmente come la vivi nel senso ti spaventa questo fatto che domani dovrai fare un set mail status o delle ulteriori burocrazie per rimanere UK con il rischio di non poterci restare o quindi sei abbastanza confidente che poi alla fine la soluzione la si trova e nessuno ti cassa? Io sono abbastanza convinto che non sia nell'interesse di nessuno uscire senza un no deal questo secondo me è il punto principale non conviene ai cittadini britannici perché ci sono cittadini britannici che vivono in Europa e non conviene nemmeno ai cittadini europei che vivono nel Regno Unito non conviene essenzialmente a nessuno non conviene nemmeno l'economia perché comunque il pound crollerebbe non converrebbe forse nemmeno all'Unione Europea un'uscita senza un no deal potrebbero esserci vari scenari tipo ad esempio si parlava di una Brexit only in the name sul modello nella Norvegia oppure di un secondo referendum oppure un altro tipo di accordo che comunque permetta delle relazioni privilegiate con l'Unione Europea quindi ci sono tutta una serie di possibilità aperte al momento la situazione è molto molto incerta sul da farsi anche se un secondo referendum dalle ultime notizie sta diventando sempre più probabile nonostante ad esempio la scissione di un gruppo di deputati laboristi dell'Independent Group sette deputati laboristi che andranno fondamentalmente a formare un partito centrista nel Parlamento assieme probabilmente a liberal democratici ok Raffaele grazie diciamo che il fine marzo è dietro l'angolo quindi sicuramente sarà nostra cura risentirci insieme a te e magari facciamo una seconda puntata sul post fine marzo per vedere un po' la situazione come si evolve perché come dire abbiamo preso un po' l'impegno con il nostro appuntamento settimanale di dare come dire delle informazioni via via che lo scenario si evolve in modo tale da far seguire anche da chi non è in UK un po' questa situazione quindi ti ringraziamo ancora e ci riaggiorniamo prestissimo grazie a tutti